Innanzitutto devo dire che sono felice che voi facciate questa trasmissione, noi della RAI abbiamo sempre molta fiducia in voi. Grazie, grazie dottore. E adesso sentiamo, avete già delle idee? Beh sì qualcosa. E dite, dite. No scusate, ma già mi viene da ridere. Sì, ecco lei sa dottore che noi abbiamo sempre puntato più sul parlato che sulle immagini, sui suoni, sulle scene. Le nostre sono quasi delle commedie. Sì, come tanto piacere. Tante scuse. Ah già è vero, tante scuse, sì. E poi l'anno dopo com'era? Di nuovo. Di nuovo tanto piacere, sì. No, no, di nuovo tante scuse. Ah già è vero, se era tante scuse la prima volta, la seconda volta per forza devo essere di nuovo tante scuse. E poi ne avete fatto un'altra? Noi no. Ah, non ne avete fatte altre dopo? No, 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 mia moglie voleva dire la trasmissione si chiamava Noi no, il titolo era Noi no. Ah sì, ma lo sapevo. L'ho fatto apposta e voi ci siete con scattico. La ricordo benissimo. Noi no, noi no. Divertentissima. Sì sì. E poi? E poi io la Befana. Ha 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 ha. Non lo ricordo, io e la Befà, io e la Befà, vero umorismo, veramente umorismo, e adesso invece questa come si chiamerà? Veramente al titolo non abbiamo ancora pensato, ma come dicevo prima, siccome noi abbiamo sempre basato tutto sul parlato, vorremmo continuare su questa strada. Ma si capisce, i vostri programmi sono divertenti proprio per questo. Ecco, però vorremmo anche rinnovarci un po', per esempio dare più spazio alla satira politica. Giusto, giustissimo, e si può avere già qualche anticipazione? Ma così, non so, per esempio far vedere a scuola un bambino che è il figlio di uno di quei personaggi implicati in un grosso scandalo, è vicino alla lavagna questo bambino e sulla lavagna c'è disegnato un cerchio, allora il maestro dice disegnami il raggio di quel cerchio e invece il bambino disegna una retta un po' esterna al cerchio in un punto, sì, allora il maestro dice ma quello non è un raggio, quella è una tangente, sì, non è finita, sì, e il bambino dice ma sa nella nostra famiglia noi conosciamo solo le tangenti. Meravigliosa, ma questa è vera satira, la tangente, questa sarebbe la strada da seguire, come sarebbe? Eh sì, magari, magari si potessero fare queste cose. Ma scusi, ma non è lei che decide dottore? Io? Ma voi non sapete chi c'è sopra di me, dietro di me? Eh no, peccato, peccato che queste cose non si possono fare. Va bene, avete pensato a qualche altra cosa? Non so, fare un po' di ironia sulla Rai, qualche scenetta sulla lottizzazione delle cariche. La lottizzazione delle cariche? Sì. Qui alla Rai? Sì. Beh, ce le sarebbe da raccontare. Eh, io... Sarebbe una scelta irresistibile. Ragari, ragari si potessero fare queste cose. Ah, non si può, ma non può farcela fare lei? Eh no, lei non sa chi c'è sopra di me, dietro di me. No, peccato, peccato. Peccato. Non si possono fare. Voi, altre idee? Ma non so, un po' di satira sui cosiddetti intellettuali. Ah, bravo! Fa bene dire i cosiddetti intellettuali, ma l'Italia ne è piena, eh. Bisognerebbe colpirli senza pietà. Bisognerebbe, magari. Sì. Eh, magari, magari. Voi non sapete chi c'è. Eh, noi non sappiamo chi c'è sopra di lui, dietro di lui. Peccato. Che peccato. Sì, peccato, veramente un peccato. Che peccato. Va bene, altre cose? Ma io non lo so, qualcosa di satirico sul costume? No. Sul sociale? Sul polì? Sul... No. No. Guardi, queste cose ne faceva Petrolini, eh. No, ma tu dà certo il Petrolini? Sì, diceva, bravo, grazie, grazie, bravo, bravo, grazie. No, 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 io voglio dire che queste cose non sono date a bombi. Ecco, visto? Visto, ha ragione il dottore. Il pubblico da noi vuole i battibecchi. Brava, signora, lei è una donna formidabile. Il pubblico vuole queste cose, le scenette tra marito e moglie, i vostri battibecchi, ecco. Visto? Ma è roba vecchia, eh. Ma se noi volevamo della roba nuova, chiamavamo dei giovani. A proposito della Parisi, come avete pensato di sistemarla, di utilizzarla? Ah, c'è. Ah, si capisce che c'è, perché non lo sapeva, signora? Ma sì, sì, lo sapevo, l'ha voluta lei. Io? Sì. Brava, signora. Lei è veramente una donna intelligente. Devo darle atto che ha fatto molto bene a inserire la Parisi in questa trasmissione. La Parisi è firmato? Ma certo che è firmato. Io ho firmato? Ma si capisce che è firmato, no? Allora mi becco la Parisi. Sipatica, mi devo dire. Scusate, io voglio sapere una cosa. Se noi non dobbiamo lasciare la strada vecchia per la nuova, cosa c'è tra la Parisi in questa trasmissione? Ma come, signora? Ma è una grossa sorpresa. Devo dire, è una grossa idea. Ma le immagini il contrasto, no? Vengono fuori due mondi contrapposti, no? La giovane e i vecchi. Ecco le giovani. Magari lo so, Pianello, lei face in modo che la Parisi le piace molto. Gli piace. Ah sì? Ma no, scherzo. Gli piace. Chierza, chierza. Ma che simpatici. Che simpatici. Dunque, stavo vedendo che qui c'è... Ah, c'è anche Gianni Agus in questa trasmissione. Sì, sì. Beh, grande attore, bravissimo, completo, eh? Guardate, io posso passare sopra a tutto. Però una cosa le dico, che quest'attore così eclettico, così splendido, debba essere usato al meglio. Sì, ma queste cose non erano previste, lei non le doveva dire. No, 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 io le dico, io le dico perché questo splendido attore, questo bravissimo attore così versatile, che ha dimostrato che sapere passare dal teatro leggero al teatro drammatico, come le giganti della montagna, con la stessa identica bravura, deve avere un ruolo preciso, un ruolo importante, altrimenti è spettato, altrimenti è inutile disturbarlo. Sì, ma... Stia calma, lei ne fa un fatto personale. No, 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 però io, no, 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 scusatemi questo spogo, ma sapete io sono tanti anni che seguo quest'attore... Ah, che... Va bene, ma io vedo che... Siamo d'accordo su tutto, no? No, c'è una cosa, mi pare che voi non avete inserito nel vostro spettacolo un personaggio, come dire, particolare, che oggi è molto di moda, eh? Non capisco. Ma sì, signora, un attore, non so, un artista, come dire, un po' diverso, ecco. Cos'è? No, sì, no, dottore vuol dire un artista un po' ambiguo. Bravo, ecco, ambiguo, sì, sì. Da un po' di tempo in qua si usa, e poi piace a un certo pubblico, piace. Ma che cos'è un ambiguo? È un ambiguo e uno un po' eccentrico, che... Che? Che con le donne, no, 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 insomma, è uno poco virile, ecco. Ah, quello? Sì. Ah, c'è, c'è. Ah, sì, sì, chi è, chi è, chi è? Ma cosa c'è? Ma cosa dite? Scherza, scherzano, che c'è? Però bisogna trovarlo, eh? Sì, sì, ma se ne trovano di qui. Mi dispiace, perché il tempo con me è sempre tirano, ma io credo che siamo d'accordo su tutto e sono sicuro che la televisione avrà un certo successo. Purtroppo è un po' vecchia, ci sarebbe voluta qualche idea nuova, però basta dichiararlo prima e... Che idea? Che succede? Ah, questa lo dia meravigliosa. Il titolo. Il titolo? Ma certo, il titolo, sentite. Stasera niente di nuovo. Eh? Stasera niente di nuovo. Eccoli là. Così il pubblico sa che cosa si aspetta da voi due, basta guardarvi. Stasera niente di nuovo. Ma le vostre facce! E così per la geniale intuizione del capo avevamo avuto anche il titolo. Come vuole la prassi fu subito indetta a una conferenza stampa per presentare la trasmissione ai giornalisti. Allora mi sembra che abbiamo detto tutto, no? Non so, avete qualche altra domanda da fare? No, allora grazie, grazie. Buongiorno, arrivederci, buongiorno. Ecco, fate entrare i fotografi. Sì, Raimondo, ma cinque minuti, perché io tra la prova costume e balletto non ho tempo da perdere con i fotografi. Perché a me non ho tempo. Eder? Venga qua, per favore. Eder? Sì. Eder? Sì. Eder? Sì. Eder? Sì. Eder? Sì. Sì. No, sono io. Guarda, andiamocene perché questo è il trionfo del cattivo gusto. Sì. Eder? Sì. Eder? Sì. Eder? Sì. Sì.